Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano con dei attratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla Fepilin direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per la viabilità cittadina, a Firenze, fino al 5 ottobre, lavori di realizzazione del nuovo marciapiede in Via del Paradiso. La strada è chiusa da Via Fortini a Via San Marcellino. Sempre a Firenze, iniziati i lavori di messa in sicurezza dell'incrocio tra Via Gabriele D'Annunzio e Via Andrea del Sarto. La durata è di un mese. Infine, per i treni, sciopero nazionale del trasporto ferroviario fino alle 15.35 di oggi, info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!